Per raggiungere i miei canoni di bellezza credo che sia impossibile in tutti i posti del mondo Tu sei felice? Io sono felice, io non sono mai stato felice in tutto quanto la mia vita e non sarò mai felice in tutto quanto la mia vita Cambieresti la tua vita mettendo l'amore al primo posto? No, Belen l'ha sempre messo, io no Fabrizio Corona, benvenuto a Denaropoli, sono Max, piacere Piacere Prima di iniziare mi dicevi che sembro tuo padre, raccontami qualcosa in più della cura dell'immagine e di cosa dovrei fare per essere più bello come te Ma credo che non è essere più bello come me perché raggiungere i miei canoni di bellezza credo che sia impossibile in tutti i posti del mondo Credo che una società basata purtroppo oggi sull'immagine Dici purtroppo quindi ti contraddici? No, dico purtroppo perché è la verità, io non mi contraddico mai, dico quello che è La nostra società, tutti gli ambienti in cui lavoriamo, qualsiasi tipo di lavoro anche dal supermercato E' normale che se hai una bella immagine curata hai più opportunità di essere assunto, lavorare O anche di essere più credibile nell'attività commerciale La gran parte dei nuovi business commerciali che esistono sono legati tutti quanti alla cura dell'immagine La palestra, i massaggi, le creme, i prodotti Cioè abbiamo un mercato che copre forse il 40% di business mondiale che serve alla cura dell'immagine e alle giovinezze Quindi cosa devi fare? Dammi tre consigli I chirurghi plastici mondiali hanno fatto soldi e hanno creato imperi Ecco tre consigli, te ne dovrei dare 550 Ma da me ne tre, se no diventa lungo, poi devo fare altre domande Il problema del capello non è un problema Quindi lo tengo così? Io lo laserei a zero perché quel capello mezzo così non ha neanche senso Forse è meglio tenere la barba Hai un colore comunque olivastro Sembri che sia appena uscito dalla tomba Stavo in Telandia proprio dopo questo Non si capisce, forse stavo in Telandia che forse era in Islanda più che della Telandia Sono cinque anni che giro il mondo Che giri il mondo ma non prendi il sole E poi magari sai il look giovanile come usano i grandi imprenditori internazionali Forse serve anche a dare un'immagine se fai questo mestiere un pochettino più credibile Per i volti telegiovani Perché chi anche arriva a una certa età e ha un'immagine giovanile Diventa più credibile anche a livello commerciale Arrivati a questo punto la domanda è tu sei felice? Io sono felice Io non sono mai stato felice in tutto quanto la mia vita E non sarò mai felice in tutto quanto la mia vita Ma è un destino Ci nasci Io sono un infelice di professione Faccio le cose, mi entusiasmo, provo adrenalina E dopo mi stufo, cambio E faccio questo da tantissimo tempo La domanda che dovresti farmi La domanda che dovresti farmi più Che se sono felice Se arrivato a 50 anni dopo quello che ho vissuto E dopo tutte le esperienze che ho fatto E sono arrivato finalmente libero Se sono sereno Non sono neanche sereno Credo che la felicità sia una cosa irraggiungibile Per tantissime persone La serenità è un obiettivo che tu ti puoi porre Ma se hai nella tua testa un DNA E un'anima E un cuore E un'adrenalina E un modo di vivere Che nonostante tutto quello che ho vissuto Ti rimane dentro E hai un po' di dannazione Che ti rimane dentro Non potrai trovare neanche la serenità E continuerai a morire così Arrivati a questo punto Non sei felice E non sei sereno Faresti a cambio della tua bellezza Per la felicità e la serenità No No Mi ricordi un ragazzo che veniva a scuola con me Un mio fantastico amico Un nuovo piccolo elementare Lui era quello che se perdeva la notte Se ne fregava il cazzo Ma sì perché Io non le vedo come Nella mia vita Io non vedo come obiettivi La felicità e la serenità Io vedo come obiettivi Cioè io in questo momento Potrei smettere di lavorare a vita E ho fatto una vita Tra due mesi con più di 50 anni Ho fatto una vita che credo che nessuno al mondo Abbia fatto una vita E la vedrete Perché la racconteranno In uno speciale Ci stai dando uno scoop Non ve lo do Non ve lo posso dare Perché se no prendo una pena di 200.000 euro Che cazzo te ne frega arrivati a questo punto Mi ne frega perché quella cosa lì è un brand Ed è una cosa che mi potrà dare uno spazio Anche di lavoro internazionale Però ho avuto una vita allucinante Potrei smettere di lavorare E anche oggi comunque L'ho detto al ragazzo che è venuto qua Io sono ricercato Ho scelto di andare in televisione quest'anno Soltanto per un ritorno in Rai Perché c'è il nuovo governo E quindi ho fatto tre ospitate Rai La prima l'ho fatta perché ho un rapporto di amicizia con la Fagnani E il resto perché Dopo 15 anni Il cambio del governo Il ritorno in Rai Dove ero bloccato Era diciamo una scelta mia Ma mi hanno strapagato Io ho richieste quotidiane Di interviste ovunque Dei podcast più importanti Che esistono sulla faccia della terra Ma io mi muovo soltanto per soldi Perché Io ti do un servizio Io ti do delle visualizzazioni Io ti do dei contenuti Io ti do quello che non ti possono dare gli altri Quello che mi ha permesso In questi lunghissimi anni Perché poi dal 2012 al 2024 Sono stato chiuso Di eccole sbarre Quindi Ho fatto i sette di anni di galera Mi ha permesso Di poter andare avanti Di essere libero È stata l'indipendenza economica L'indipendenza economica Quando sei solo Perché io nasco solo Io non ho padroni Non ho capi Non ho soci Non ho consiglieri Ma nasci solo anche come bimbo Nasco solo anche come bimbo Perché sono sempre stato molto solo Quindi La forza della tua indipendenza economica Ti ha permesso Poi di utilizzare Il business E i soldi Per creare tutta la serie di attività Che fai Oggi Non voglio fare l'elogio Di quello che ho fatto nella mia vita Perché ho fatto tantissime cose Poi sono scelte anche il modo In cui ho fatto le cose Ma Il 15 ottobre Ho lanciato Un'attestata giornalistica Che si chiama Dillingernews.it Oggi abbiamo 250 mila follower Facciamo 3 milioni di più al giorno 3 milioni e 3 di dashboard E siamo il quarto sito nazionale Dopo Corriere Repubblica E il giornale In tre mesi Cioè Gedi Il gruppo Gedi Della famiglia Agnelli Ha comprato un portale Di Gossi Cioè un canale Instagram Che si chiama Cronaca di Spogliatoio Che sono soltanto post Con delle scritte Che esiste dal 2018 Che ha 1 milione e 300 mila follower Noi abbiamo 250 in due mesi E ha comprato il 10% 500 mila euro Cioè se io dovessi vendere Dillinger tra due anni Con un milione di follower E un'attestata giornalistica Registrata al tribunale 3 milioni di view quotidiane Sul sito E tutte le applicazioni In due mesi Ho creato un impero Da 3 milioni Non è facile farlo Non è facile Soprattutto a 50 anni Soprattutto essendo affermato Per 7 anni Soprattutto sì No ma la mia forza La mia forza Sono le idee Anche qui Quando sono venuto qui Io analizzo le persone Cioè io vengo Sì Ogni lavoro Dove tu vai Dove tu incassi Deve essere prodromico All'apertura di nuovi lavori Nuovi spazi Per fare business Con gente Che è il motivo Per cui ti abbiamo chiamato Al di là dell'intervista Che è il motivo Che tu mi hai chiamato Al di là dell'intervista Ma è quello l'interesse Io credo che nel mondo Però se ti pago E mi dici che sono brutto Figlia Ma io ti dico la verità Non ti ho detto che sei brutto Bravo Mi piace Attenzione Però Sono affascinante È differente Non è vero Te non sei brutto Perché te Sistemato potresti essere anche bello Sì ma la mia ragazza C'ha 17 anni in meno E mi dice che sono bello Io la mia ragazza Aveva 27 anni Mi sono lasciato da 3 giorni Dopo 3 anni e mezzo Ne aveva 27 anni in meno E forse la tua Ti interessava Perché magari Ti faceva comodo Di così A questo punto Però te non sei Te non sei un brutto ragazzo Te non ti curi Preferisci pensare Tutto il giorno E non ti curi Io preferisco essere Socrate Sì però poi Quella roba lì In realtà non è vero Perché io giro parecchio Mi dedico un sacco di tempo Ma non curo l'immagine Ma non è l'immagine Sai Lascia perdere la palestra La palestra è un conto Io ho una fissa palestra Ma sai Cuorarsi la pelle Farsi i massaggi Essere elegante Essere a modo Essere decoro Oggi noi vediamo Per dentro tutti questi Io vengo in pantaloncini E maglietta Noi vediamo tutti questi Stramiliardari Che se te vedi Elon Musk Che c'è un uomo Che avrà L'uomo più ricco del mondo Ma se ne andrà su vita Non si è ormai comprato niente Gira con una maglietta strappata Un pantalone bucato Ma l'immagine comunque ti rende Vittima dello scacco Delle persone che ti guardano No perché lì Quando tu pensi Che la tua intelligenza La tua pazzia Non abbia bisogno di Allora te ne fotti Hai quella roba lì Quella cosa lì Non lo devi fare per gli altri Cioè Lo devi fare per te stesso Io sono uno Che lo fai per te stesso No io sono uno Che nel quotidiano Se te mi vedi Forse lui mi ha chiamato Qualche altro ragazzo Mi ha chiamato Io quando lavoro E non ho appuntamenti Sto in pantaloncini corti Io vivo perennemente Con 40 gradi d'inverno In tutti i miei uffici In tutte le case Se tu entri Sono 40 gradi Io sto con maglietta Senza maniche Pantaloncini corti E scarto da ginnastica Parlavi della ragazza Tu hai un bellissimo rapporto Con la Belen Giusto? È la mia migliore È l'unica ragazza Di tutte le storie Della mia vita Che ne ho avuto tantissimi Importanti e pochi Molto pochi Importanti Diciamo 5 le conto Con cui Sono riuscito a mantenere Un grandissimo rapporto Di amicizio E stimi De Martino Correto Stimo De Martino Professionalmente Ultimamente Non lo stimo Molto umanamente Per quello che è successo? No per quello che è successo Perché nel senso Che te devi riconoscere Io lo stimo perché Non è Cioè ha avuto Una botta di fortuna Ha dovuto anche A un momento di pazzia Di Belen Ha fatto un figlio Sprovveduto Ha abbandonato un lavoro Non aveva un lavoro Ha abbandonato tutto Ci ha provato in tutti i modi E poi alla fine Comunque napoletano E intelligente Utilizzando i rapporti Che ha fatto Da una carriera Completamente finita Si è costruita Una carriera normale Dove Se la gestisce bene Come la sta gestendo In un modo Politicamente corretto Che io odio Perché Apro una parentesi Cioè se De Martino Non fosse stato con Belen Se De Martino Utilizzassi i social Come li utilizza Oggi De Martino Sarebbe un uomo Da 50.000 follower Sui social Perché Guardare le sue storie Ti suicidi Cioè È la morte È la morte in terra Però lui ormai Creato lo status Belen Creato questo Si vende come Il bravo ragazzo Per eccellenza Pulito Perfetto E Che poi Che poi Alla fine non è Quindi io Io stimo Il De Martino Il ragazzo Che si è impegnato Che ha studiato E perché Le cose che sta facendo oggi Sono frutto di studio Di studio Di televisione Di tante cose che aveva dentro Cioè è passato a fare il ballerino Non è uno che ha studiato Però poi esiste anche la parte umana La parte umana vuol dire Che se te hai Dei momenti In cui Ricorsi storici Sbagli Devi prenderti anche Le responsabilità Di dire Ho sbagliato Cioè nel momento in cui Tu hai le palle Poi bisogna vedere Se sono palle O sono interesse Di tornare Con una che Vi siete lasciati Vi siete ripresi Vi siete cornificati Vi siete ripresi E in questa In un momento Di un anno Fa un figlio Con uno sconosciuto Perché è l'unico uomo Purtroppo L'Antonino Che io conosco bene È l'unico uomo Che non riconosce come uomo E ci torni Dopo nove mesi Che ha fatto un figlio Con un altro Ci vuole il pelo A tornare a casa Con il tuo figlio Con un altro figlio E se poi però Ti comporti come ti comporti Allora pensi Che ci torni per interesse Perché lo status Belen Ti serve ancora Però nel momento in cui Ho visto un pezzo L'intervista della Belen Alla Rai Lei ha avuto difficoltà Ha sbagliato Lei ha sbagliato Allora L'intervista L'intervista Della Rai Gliel'ho detto Perché lei Ogni cosa Mi chiede un consiglio Per me è stata In alcuni punti Bella profonda In altri punti Non è che devi esagerare A raccontare tutti i tuoi cazzi E buttarla su Ridere Sui dodici tradimenti E scherzare Perché comunque Devi avere anche una dignità Devi affrontare I discorsi seri Ma la Belen Degli ultimi sei mesi Non è la Belen La Belen Degli ultimi sei mesi Non è Belen Però io concordo È la Belen Degli ultimi anni La vera Belen Ma non perché stava con me Era la Belen Che stava con me Ma perché magari Aveva anche di fianco Un uomo Pazzo Completamente pazzo Fuori di testa Però molto sicuro di sé Pieno di Di idee Di energia Cioè se te Stai tu Non lo so Te stai con una ragazza Che ha 17 anni Meno di te Che lavora fa Lavora con me Lavora con te E quindi Spero che lavori con te Perché è brava E non lavora con te Perché la vuoi tenere di fianco La vuoi controllare No Ma va Io non sono geloso Però nel senso Se te stai con un uomo Che è Però lui Nel momento del bisogno L'ha lasciata Da sola Questo è quello Che le recrimina L'ha lasciata da sola Nel momento del bisogno Porto su me stesso Che è stata anche La mia storia con Nina Quando te poi Da piccolo Raggiungi i tuoi obiettivi E sei al massimo Cioè Hai una ragazza Li puoi stare vicino Anche a distanza Magari devi stare vicino A distanza Rinunceresti a tutto Quello che hai creato Per dedicarti Alla tua fidanzata Dopo il passato Che hai Che è la domanda Che ti voglio fare Cambieresti la tua vita Mettendo l'amore Il primo posto No Belen l'ha sempre messo Io No Perché No Secondo te chi ha vinto Tartella Belen Mettendo l'amore Il primo posto Vince lei Come vince adesso Ho fatto un'intervista Su chi in questo momento Però lei Quando ci siamo lasciati Dopo cinque anni Io ho scritto Cinque libri Non erano sei Sei Sette Non mi ricordo Ho preso il conto Ho scritto sei Ho detto sei Non è che ho scritto i libri Che ho scritto la Delellis O Melissa Satta Ho scritto dei libri Che sono stati bestseller Tutti L'ultimo Ho scritto un libro Di settecento pagine Con la nave di Teseo Che è la casa più importante D'Italia Che diventerà Un prodotto Televisivo Importantissimo Tratto da quella narrazione Quando scrissi Mea culpa Nel 2013 Quello che l'imputai A Belen È il fatto di dare Troppo E questo Gli ho dico A quella ragazza Magari Che è giovane Che potrà avere Dei rapporti Quella lì in fondo Che ora non mi guarda Che il peso Della parola amore Il ti amo E la mia vita Cioè Ha un peso Non è che tutte le persone Che incontri Dopo due mesi Sei l'uomo della mia vita Ti ho sempre cercato Perché vuol dire Che te non dai il peso E io infatti Scrissi questa frase Molto importante Dicendo Quella parola Che usi amore Che troppo spesso hai usato E che da oggi in poi Userai tantissime volte Nel modo sbagliato Perché l'amore Alla fine Quando poi Tu anni hai 48 Non so che relazione hai avuto Ma quando te arrivi a 60 Farai Non potrai mai avere Un paragone Con un ragazzo Una ragazza di 23 Quella con cui stavo io Una ragazza di 28 Una ragazza di 30 Ma se l'amore al primo posto Cambiano le azioni che fai Non sei da cosa Se l'amore al primo posto Rischi Perché poi L'amore da una delle due parti Finisce Però anche tu rischiato Quindi qual è il problema No Nel senso che Dipende quali sono le tue priorità A te cosa ti dà più gioia Oggi a me Sì Io mi faccio le serate Mi vado a divertire Oggi un po' meno Quella adrenalina però Sì Quella adrenalina Per me il lavoro È adrenalina Cioè io Quando mi siedo Ho un modo di lavorare Molto particolare Ricostruisco degli uffici Che sembrano delle case Pieni di fogli Pieni di giallini Pieni di appunti C'ho sempre 14 televisioni davanti Guardo Leggo Studio Io lì È come se fossi un pittore Che crea E quella roba lì È la mia dimensione artistica Certo Cioè Io non Ci sono sei Per esempio In questa relazione Quando questa ragazza Con cui stavo Partiva e faceva la modella Io volevo fare il bravo Facevo il bravo Io stavo in ufficio Fino alle 5 del mattino Però non è che stavo In un ufficio Fino alle 5 del mattino E ci stavo male Cioè stavo bene Cioè io Quando mi sveglio La domenica Se non mi metto a lavorare 3-4 ore Sto male Cioè a me Sedermi lì E lavorare E avere i conti a posto E avere le idee E progettare E progettare È una cosa Che mi riempie vivo Forse è più di Un viaggio Quando poi trovi Una ragazza Che ti dice Sai Sei milionario C'hai 50 anni Ma facciamoci 5 anni Che ci giriamo il mondo Ma io dopo Tutte le settimane Mi rompe i colpioni No a me è stata La compensa più bella Della mia vita Ma il silenzio Ti dà fastidio? No Il silenzio Non mi dà fastidio Anzi lo amo Quando sono solo Ok Ricordo Che ho fatto 7 anni Di carcere Esatto E ho fatto 7 anni Di carcere Di cui gli ultimi 4 In un regime aperto Il regime aperto Vuol dire che le celle Non erano più chiuse Quindi le celle Erano aperte E comunque io Perché ero io E comunque mi faccio riconoscere Anche nei posti Riesco ad essere sempre In istituzione Anche in tutti i posti Dove vado Mi chiudevo il blindo E mettevo un tipo Fuori dal blindo Per evitare che Nella sezione Dove c'erano 100 detenuti Tutti i detenuti Venissero a romperi coglioni E quindi io stavo Nel mio silenzio Nella mia solitudine Quindi Il silenzio Non mi spaventa assolutamente Tu in tutte le cose Che hai provato Hai mai provato La psilocibina Non so cosa sia All'interno di alcuni funghi Allucinogeni Allucinogeni C'è la psilocibina Io ho provato Droghe Le ho provate tantissime Ovviamente sono stato Dipendente della cocaina Non parlo però della droga Parlo del percorso Che puoi fare Con questo tipo di strumento Roba tipo la riovesca Quella roba lì Non fa per me Perché non fa per te Non fa per me Perché io non ho mai preso A parte medimea E queste robe che ti servono Che ti fanno piacere sessuali Non ho mai preso Questo tipo di droghe Tipo estasi O queste cose qui Non parlo dell'estasi Ma anche queste cose Un po' Un po' di funghi Allucinogeni Perché ho sempre Io di due cose ho paura Di perdere la coscienza Per esempio Io ho fatto delle piccole operazioni Sono stato fortunato Non ho avuto malattie Ma io Una L'anestesia totale Non me la sono mai Questa mia ragazza Motivi anche legati alla galera Che non mi vergogno a dirlo Lo dico a tutti quanti Che ho strumentalizzato Per uscire dalla galera Perché quando tu hai problemi psichiatrici Hai più facile per uscire E più facile per uscire Da galera Io sono stato visitato Dai più grandi medici del mondo Quando li sentivo parlare Mi cascavano le palle per terra Non ho mai creduto Io non credo assolutamente Nella figura dello psicologo Della psichiatra E non ci ho mai creduto Credo invece Nell'effetto dei farmaci Perché poi Se Io non prendo farmaci Quando Ovviamente Mi dichiaravo Che ero completamente fuori di testa Dovevo per forza Rimbottirmi di farmaci Che però vanno a sedare Il tuo cervello Mi rimbottivo di carcere Perché te li mettono in bocca Ti controllano se li ingoi Ti fanno Tu lo sai Che devono rimandere nel sangue Perché Come il litio Queste robe qua Devono avere un livello E quindi Eri obbligato a prenderli E quindi Ti stordimo In una maniera allucinante Non credo in quei farmaci Però per dirti Io oggi Ancora 50 anni Anche se Non dormo da 6 giorni Se non mi prendo Un tavolo e mezzo E 40 gocce di Xanax Non dormo Lo so Io ho sentito le interviste Non sono tuo amico Per carità Ma io quando le hai sentite Me le hai raccontate Io mi sono preoccupato Della tua anima Perché Se ce l'ho l'anima Tu ce l'hai E hai un'anima bellissima Da bambino Che proteggi con il tuo eroe Che è la tua immagine Secondo me Però io non ti conosco Questo sì Questo anche E ti consiglio quel percorso Perché l'ho provato E io sono sicuro Che ti potrà aiutare tantissimo Visto che l'anno prossimo Perché non vuol dire Che poi diventi bravo Rimani tu Io per esempio L'ultimo viaggio che ho fatto L'ultimo L'ultimo viaggio che ho fatto Perché come hanno ritirato il passaporto Sono stato in America nel 2011 Viaggiavo tutto il mondo Ora grazie a Dio Forse tra un mese e mezzo Ho finito la pena Però ci sono delle cose burocratiche L'udienza di sorveglianza Roba che non ti sto a dire Quindi a marzo riprendo il passaporto Mi piacerebbe Ritornare a faremi i viaggi Magari Un giorno ti dico Sei in Thailandia Andiamo in Thailandia Mi vieni E se te mi dici Dai facciamoci una serata Facciamoci Questo fungo allucinogeno Che ci sballa Che non è una serata o uno sballo È un percorso figo E magari mi ritrovo con La barba lunga Magro No puoi rimanere bello Non diventi come me Non ti preoccupare Una vestaglia da IUP Una roba del genere Allora ti volevo chiedere un'altra cosa Andiamo sempre un po' nel Conosci il Cerbero? Sì Che è un podcast comunque Che ha la sua È un cretino Ok però Marra Sì È un cretino Ma non volevo tanto parlare di lui Ma è un emerito cretino Ok Posso dire la mia? Ah puoi dire quello che vuoi È proprio un emerito cretino Che è convinto di essere Di essere un figo E di capirne Di avere dei concetti O delle robe O dei contenuti Che non ha E credo che nella Nella sua follia Io Con la fede Zeraferragni Ho un Ora L'ho un po' rotto Perché Ma con Dillinger Non col mio profilo Perché ovviamente Essendo loro il caso nazionale Ne parlano tutti E io sono obbligato a parlarne Allora mi avevano fatto tre cause Avevo tre problemi Il mio avvocato Ti stende sempre a A non farmi fare le cause Quindi trovare sempre D'accordo di cose Che io non vorrei fare Però ormai è diventato Il mio miglior amico Io Io lo ascolto E' il tuo avvocato di sempre? Da 15 anni Abbiamo fatto miliardi Di battaglie e processi Mi ha detto Ma sì L'avvocato è amico mio Ci mettiamo d'accordo Loro ritirano la querera Tu La smetti di dire quelle robe E non parli di loro Però La scelta di Fedez Secondo me Dopo lui sal Di prendere Il conduttore del CER Però in quelle condizioni Concierto così Quando tu scegli Di andare a intervistare Politici Comunque imprenditori Gente che ha sofferto Ti ritrovi Uno rasta In canottiera Che fa le robe con gli fan Ma il mio tema è diverso A parte lui Che io non lo conosco Mi dissocio da quello che dici Prima che mi si rompono le pale Che fa ogni fan Con la roba puttana È una roba di un'immagine tremenda Sì Però il tema secondo me È un altro del momento Fedez va là A parlare di Fuffaguru Dove? Al Cerbero? Al Cerbero È andato? Ma ci va no? No Non va al Cerbero Dove vanno? Ed io non lo so I Fuffaguru I Fuffaguru oggi sono il tema Giustamente Certo Delle trasmissioni Di attualità Che cercano Che fanno Sono costretti a fare Sono il tema Delle trasmissioni Di attualità Dove Dove io ho lavorato Tantissimo Le ho fatte quasi tutti Dove ovviamente hanno un argomento principale Che è l'argomento della settimana politico Poi hanno magari la roba che è più clickbait Che più insomma Ora c'è la Ferragni Metti la Ferragni E poi ci sono questa serie di trasmissioni popolari Che vanno a colpire la gente E che vanno a farle vedere malagne Il fenomeno di Fuffaguru Da settembre a gennaio È stato un fenomeno allucinante Certo Perché abbiamo visto questi ragazzi Che guadagnano delle cifre esorbitanti Con dei sistemi Facendo degli scambi Facendo degli scambi Facendo delle robe E comunque Te lo dico io Io l'ho sponsorizzato Perché quando uno ti dice Sai ti do 24 mila euro Per farti tre storie Hai sponsorizzato un Fuffaguru Dici? No Ho sponsorizzato una storia Dove uno dice Iscrivetevi al canale Fate quella roba lì Ho preso un sacco di soldi Certo Io pubblico Me ne sbatto il cazzo La gente prende Il suo giudizio Non faccio il moralista Non lo faccio Non lo dico Però È gente Che ha inventato Questo sistema Che spende troppi soldi Senza fare contratti E che sono una sorta Di mannamarchi 2024 È vero Ma se io Sono Fedez E vado Lì A sto Cerbero Insomma Faccio sta roba qua E poi alla fine Ho il problema A casa dei panettoni Ma lui allora Allora chi è senza peccato Scagli la prima pietra Diceva così Io ti do una spiegazione logica Tenendo conto che Se te vai nella mia pagina Dillinger Quando è scoppiato il caso Io il primo giorno Subito Quando è scoppiato Il primo caso Ho detto Ho detto Che a prescindere Da tutto C'era un reato Perché io conosco La legge penale Meglio di tutti E il reato Era di truffa Aggravata L'abbiamo ripostato ieri Lo postai Due mesi Proprio il giorno stesso Che uscì l'inchiesta E due giorni fa La Terragni È stata scritta Nelle gestioni indagate Per truffa aggravata E per quello Se non te che non posso più Allora però No no Allora Lì andiamo in un altro post Poi ti do anche Un altro scoop Che scriverò domani Ma te lo do Quindi non sarà uno scoop Perché tu andrai Ma non andai più avanti Quando tu arrivi A certi livelli Come me Cioè quando io Poi creai la Corona Se feci tutto quello che fai Te non hai remore Nel senso Rovinare coppie Non rovinare coppie Cioè Sei talmente calato Nel tuo sistema E quando poi Te ti elogi È icona Di tutto Quanto È Sbagli Perché Utilizzi molto La beneficenza E soprattutto Utilizzi anche molto L'impegno politico Che non Perché Primo non ti si addice E secondo Non ti appartiene Perché tu non hai Nessuna cultura Politica E quindi Incominci a usare Durante il Covid E faccio la beneficenza E faccio questo E nel momento in cui Fai oggettivamente Un reato Perché Scrivi Scrivi che dei panettoni Delle robe Sono in beneficenza Poi prendi soldi E non è così Perché la truffa Prendono 20.000 euro Pensando che sei inarrivabile E intoccabile Perché sei te Che hai ragione E lì Raggiungi la cosiddetta Tu che sei una persona Che mi sembra abbastanza colta Parola Che si chiama Ibris Dove c'è la droga Dove c'è la droga Questo non è un insulto Se no ti ritrovi di nuovo Con la querela No Io ti sto dicendo Transiamo già Ed è la prima cosa La Ferragni e Fedez Non sono due persone intelligenti Sono due persone Lui quando era più giovane Studiava di più Era un certo business Lei ha avuto fortuna E ha cavalcato un'onda La seconda cosa Che sbagliano È che loro Si vendono Per i diritti LGBT Per la violenza Sulle donne Che la Meloni Fa schifo E tutta sta roba qua Però fondamentalmente Loro sono l'elite Dei ricchi Loro sono la destra Loro non sono Il pubblico Io sono il pubblico Loro non sono amati Dal pubblico E non sono persone umili Sono persone Che costruiscono La loro immagine Esattamente come Fuffa Guru Tenendoti la casa Da 7 milioni di euro La vacanza Le 500 stanze E questo è quello Che tu Critichi un modello Che utilizzi In un certo modo Allora Loro per loro Sono truffatori Perché poi Truffano la gente E questo è chiaro Bene Ma loro Sono simili Ma loro si sentono Gheletti Capito Loro sono Intoccabili Capito Loro sono È come se fossero I principi Se fossero Carlo e Diave La situazione Quando uno Si permette di Si permetteva Prima di parlare male Di loro due Faceva la cosiddetta L'esa maestà Che non si potevano Permettere Dall'alto Dell'olio 500 mila Ora La cosa clamorosa È che Con tutto Quello che hanno Anzitutto Li distinguiamo In questo momento Li distinguiamo Secondo me La Ferragni È in una caduta Libera Da cui non si riprenderà Più Sicuramente Non sarà più Come prima Le scelte Di comunicazione Post Tragedia Pandoro E tutto quello Che gli è venuto Tutti i giorni Ne succede qualcuna Le uscite Instagram E tutte le dichiarazioni Sono state sbagliate Una più dell'altra E questo Ti fa capire Che non è intelligenza Che non ho staff Che non riesci a capire Perché il vero Quindi adesso Che è in caduta libera Se la pago Viene qua No Adesso ancora i soldi Ce li ha Magari 3-4 anni Se li dai 2.000 euro Viene 3-4 anni 5 anni Ma tu appunto Che lavori con questa agenzia Che non è tua Ma lavori per loro Eccetera eccetera No L'agenzia Io sono dipendente Io sono dipendente Esatto Ho letto tutte le cose Ho visto bene Se io vorrei una persona Se io volessi una persona Per esempio FedEx Lo posso avere? Certo Lo pago? Ti pago a te? No FedEx l'ho dato un altro podcast Eh però Allora Ma l'ho dato un altro podcast Per un certo modo Allora ti spiego come lavoro No però aspetta Io so che c'era un ragazzo qua Che voleva fare dei podcast Eh Oggi non esistono i manager No però voglio sapere una cosa Se tu litighi con FedEx Andate in tribunale E poi alla fine Visticiate Però alla fine Tu tra virgolette Lo vendi nel senso Lo rappresenti Vuol dire che alla fine Se io litigo con lui Alla fine non lo lavoro Io con FedEx ho avuto Un rapporto particolare Nel senso che lui Come tutti questi giovani Che sono cresciuti Sono cresciuti Ma voglio fare il figo Mi sembra che Se mi vedi Non sono nella fase Dei 50 anni Che ho bisogno di fare il figo Rimarcare quello che ho fatto No tu lo sei E questo è chiaro Appunto Non fai finta Allora Il ragionamento Il ragionamento è Tutti questi Sono cresciuti Nel metodo di Fabrizio Corona Cioè io mi ricordo Dopo quattro anni di galera Nel 2015 Il 25 dicembre Nel giorno di Natale Tornato a casa Dalla mia famiglia FedEx Con la sua Porsche Che ancora non era FedEx Viene insieme All'altro cantante A sbocciare Una bottiglia di champagne Con me In amicizia Quindi Quindi comunque Che tu litighi Con le persone Dallo spettacolo Poi io ci litigo Poi io con lui Ci ho litigato Abbiamo fatto il processo Poi Siccome È lo stesso ragionamento Che ti facevo prima Per i soldi Sicuramente io sapevo Che il processo Con i Ferragnoz Mi avrebbe dato Una grandissima visibilità Sicuramente avevo ragione Con la legge Sai Essere su un processo Dove poi vai sul banco Delle imputati Ripreso E ne ho fatti Tanti processi Adesso gli ultimi Li ho fatti con Bananara Icardi Ti portano pubblicità Ti portano hype È come io pagare un podcast Tu paghi una multa Paghi una causa Alla fine In tribunale Faccio Però il ragionamento La differenza è che Quando io mi siedo Sul banco degli imputati Mi sono seduto Sul banco degli imputati 750.000 volte Dove rischiavo Trent'anni Quarant'anni di galera Sedermi sul banco degli imputati Preparato così Per una querella del cazzo Dove non ho niente Intestato È noia Ma che cazzo No è noia Mi diverto Non c'è paragone Vedere una L'avvocato L'avvocato Mio è come mio E come me Noi ce li studiamo Assieme ai processi Se poi te la incalzi Su determinate cose Ed escono fuori Delle notizie È anche un danno Di immagine Andare a processo Con Fabrizio Corona Allora Lucarelli L'ho fatto un culo così Lucarelli Mi ha fatto quattro cause Abbiamo fatto Un unico processo Di quattro cause Sono stato archiviato Assolto Ma in aula L'ho fatto un culo così Che il giudice Mi l'ha detto In tutti i colori Si è sotterrato per terra Sì assurdo Al fine l'avvocato Ma chiese su scusa E allora Io nella transazione Dico va bene Io non parlo più di voi Perché tanto a me Sbagliavo quel tempo Cazzo me ne frega Ormai parlare di voi Mettetemi la penale Dicendo di questi soldi Che non parlo di voi E poi però Tu mi fai un piacere Vieni a un podcast mio Non il mio Perché io non ho un podcast Certo Quindi se arrivavi tu O arrivava Quell'altro ragazzo Voleva fare il podcast E mi chiedeva Io glielo vendevo E lui non è mai stato un podcast Ma glielo vendeva La cifra che dicevo io Senza dargli un euro Certo Assurdo Allora io per esempio Lavoro con tanti podcast Ho creato tanti podcast Certo Ma quando ci sono Gli artisti normali Che ti paghi I tiktoker L'influencer Questa roba qua Però sono quelle robe Che poi non è che ti portano tanto Magari ti fanno portare i numeri Ti fanno portare queste robe qua Poi però devi alzare il brand Se te vuoi Breatore Se te vuoi Lafagnani Se te vuoi Mentana Se te vuoi E tu lo vuoi anche come creatore L'antico Però ci avevi litigato in televisione Questi sono tutti gente che mi rispetta Se te vuoi l'antico vinaio Se te vuoi Feltri Se te vuoi Renzi Se te vuoi questi Jerry Scotti No Quelli lì lasciali Non si può Quelli lì no Però se te vuoi questi Questi E gente che comunque a me mi deve dei favori Sgarbi mi piace Sgarbi è mio migliore amico Sgarbi è andato a cosa ha fatto Ha fatto bene È andato a questo podcast Che si chiama One More Time Non so se lo conosci Sì Ok tra parentesi La storia di questo podcast è molto particolare Perché Luca Casadei Io e Luca Casadei ci conosciamo da Da quando ci abbiamo 20 anni E tu non ci sei andato però Lui faceva il venditore di ballerini in discoteca Non tronisti ballerini Cioè Costantino Vitaliano e Daniel Interrante Prima di diventare tronisti Facevano i ballerini a 150 euro E lui aveva un'agenzia che rappresentava ballerini ragazzi immagini In tempi si usavano più ballerini Non tipo oggi gruppi mamma sita queste robe qua C'erano i ballerini delle discoteche Sai quelli che si spogliavano di mutande che ballavano Lui faceva questo Poi ha avuto un'evoluzione sua pazza Perché comunque Era un ragazzo molto per bene A un certo punto si è fatto una famiglia Pensa che questo tipo qui non c'ha neanche il cellulare E' uno che vive senza cellulare E insomma poi ha avuto la fortuna di farsi questa roba E si è calato in questo personaggio guru spirituale Tipo un po' come vogliono essere questi tutti quanti E fa questo podcast dove te li devi raccontare tutta quanta la tua vita E robe varie Siamo amici me l'ha chiesto mille volte Io ho detto Luca Io di solito bestemmio Luca porco Come quando sei arrivato Ma secondo te lo sai Se mi date i soldi vengo Se mi date i soldi che cazzo me ne frega me Di venire a raccontare la mia vita là Non me ne frega niente Oggi fanno la corsa per andare a raccontare la vita là Sgarbi che non capisce Che vive nel suo mondo E comunque pensa che la comunicazione ancora gli serva E' andato lì Non sapeva neanche che cazzo fosse Luca Casadei C'è il pezzo A un certo punto appena Questo qui gli ha fatto 3-4 domande Gli ha detto ma che cazzo vuoi Ma che cazzo me ne frega Ma che cazzo sei Cazzo mi sei andato Non so se l'hai vista E lui l'ha mandato in onda Ma è normale Perché uno normale dice Ma scusa ma chi è questo qua Peraltro che vuole fare l'analisi della mia vita Sgarbi e mio fratello come me è un pazzo Siamo delle persone eclettiche A cui non è che puoi dire quello che fare O cosa non fare O puoi fare un'introspezione interiore Tu Ma poi tu chi sei per fare un'introspezione Se fossi Freud Magari Va bene Ma non è che Luca Casadei può fare un'introspezione A Sgarbi Ti prego Raccontami come eri da bambino Ma che cazzo te ne frega Lo so perché Allora spezziamo un po' il ritmo Ti faccio un gioco Ti va? Allora Abbiamo due mazzi di carte Domande tabù Domande tabù E lo sapevo Domande denaro le tolgo Più divertente Certo Anche perché soldi Allora puoi scegliere una carta Vai 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 Scegliamo Leggi Eh jolly Che culo che c'hai Cosa vuol dire E adesso ci sono C'è questo Vai Soldi Allora questa cosa qua No sarebbe una roba che abbiamo pensato così Però per te vale un po' più degli altri Vai La macchina della verità Vai No no Sono delle domande Veloce Non c'è nessun problema Non ci devi pensare Devi dire la verità Io Sempre Vai Appunto Sei abituato Allora A o B devi dire Cioè devi scegliere Essere fedele o tradire senza essere beccato E ci stai pensando tu No B B Cioè tradire senza essere beccato Sì ma non è un must Che cosa Cioè non è Non è un obbligo No Cioè E' posta la domanda sbagliata Cioè ti sei in una storia E' scritto male Come è scritto male Questo l'ha fatto la mia fidanzata L'ha sbagliato E no Devi dire tu in una relazione Eh Tradisci O sei fedele E no E no E' molto più subdola la domanda Se mi permetti No perché tradisce senza essere beccato Senza essere beccato Allora io ti faccio una domanda Eh Non essere cattivo Quanto tempo ci sei con la tua fidanzata? Cinque anni o qualcosa Tu pensi che non ti abbiamo mai tradito? No non mi abbiamo mai tradito Questo lo pensi te? Ma non è un problema Ok Se io lo penso Io sono convinto E per me è la verità Ok E se scopri che ti ha tradito? Ne parliamo Probabilmente la superiamo Sì? Sì amore mio Bravo Questa è una cosa È una cosa Però è Eva sulla domanda No Però nel senso che Tu vivi Tu dai amore Io tu conosci una ragazza E dai un sacco di amore Certo Poi ovviamente Ci sono settemila tentazioni Che ti capitano Certo Poi sei paulizio Ok Sette una sera Voglio dire Posso usare delle parole Anche un po' volgari Non so Ti fai fare un bocchino Eh Oppure ti fai una scopata Perché sei ubriaco L'indomani non te lo ricordi Ma torni a casa E sei la stessa persona Allora tu hai un attenuante Se io fossi nel tuo corpo Avrei problemi più Di quelli che vivi No ok Bene Qual è la problema Il problema è Se Se te ti innamori Se te hai un amante O se te Magari fai una roba E poi sei una stronza O sei uno stronzo Capito Quello è un problema Però io Nella mia vita Se te me lo devi chiedere Ho sempre tradito Ma anche Belen Vabbè ma lei Cosa c'entra adesso No per dire Ah no Cioè nel senso No per capire Perché un cesso Cioè non è che stai Con la più bella figa È una roba Non è che si tradisce Con la più bella No è una roba È una roba di perversione Ti scatta Una roba di perversione Vai Ti scatta una roba di perversione Allora domanda numero due Tasse o galera Tasse ora purtroppo Ma le parli Sesso a due o a tre A due Quello che preferisco Ora a due Ok Ora A cinquant'anni Mi viene anche complesso Avere vent'anni o quaranta Ma però Fammi la domanda Ah perché la devi giustificare No te la spiego Ah ok no Mi piace Ho fatto tante volte Sesso a tre Ok È faticoso Però se poi Quando hai cinquant'anni Non so se ti è successo anche a te Eh Cambiano le cose Vabbè io faccio uso di sostanze Cialis quella roba lì Ma non per l'elezione Perché quella roba lì Secondo me ti fa godere di più Io da quando prendo il Viagra Il Cialis Godo di più Ti è cambiato il mondo Sì e poi Sinceramente devo dirti Che a cinquant'anni Il sesso mi piace più di prima Sei più consapevole Mi piace No Mi piace più di prima E Ma faccio una strana Una strana Un ammezzo tra sesso e amore Una roba del genere Allora devi provare il yoga tantra Ok È il secondo consiglio Mi piace Mi piace quelle robe un po' delle geish Quelle robe Quindi Magari utilizzare anche Però con una Cioè Fa la roba in tre Te la perdi quella roba Quando sei giovane Tre Quattro Cinque Un bocchino Una Il tuo record è fino a quante Ma va Ho fatto Ho frequentato un amico mio Che è carissimo Era il re degli scambi di coppia Ma scambi di coppia Di quelli Eyes wide shut Facevi le ammocchiate Di quelli come dei film Io Quando avevo 18 anni Mi sono trasferito a vivere a Miami Mi sono capitato Una festa di Gianni Versace a Miami Dove tu entravi in casa Tipo le vedi queste qua Anzi Che essere qui a far così Quello scupava l'acqua Un bocchino l'acqua Quello pippava l'acqua Tu passavi Ti facevi una botta di qua Un bocchino di là Un bocchino di là Ma quello c'è il problema A metterti nel culo Cioè erano delle robe Delle robe Delle robe esilaranti Poi quando sei con gli amici Farti le scopate a tre o quattro Ti diventa anche divertente A cinquant'anni Ho sbagliato amici Dovevo diventare tuo amico Quando ero piccolino A cinquant'anni sinceramente Metterti a scopare due donne Già fai fatica Dopo che hai scopato una Un'ora Pensa a scopare due donne A limite ci bandano i video Ok quindi Vent'anni o quaranta A questo punto Di? Non di galera Intendo dire Avere vent'anni o quaranta? Cinquanta Cinquanta Comunque più grande Non torneresti indietro Non tornerei più indietro Figlio di papà O tirarsi sulle maniche? Tirarsi sulle maniche Tutta la vita Ah io sono nato Figlio di papà Io andavo a scuola Con l'autista Mi padre era uno Dei più grandi giorni Si italiani Io fino al liceo Avevo l'autista Personale Mi veniva a prendere Con la tema blu Mi portavo a scuola Ma tutto quello che ho fatto L'ho fatto da solo Mi viene tornato a tornare Anche perché poi Mio padre è caduto in fallimento Questo L'abbiamo visto tutti L'hai fatto tutto da solo Razionale o emotivo? Questa è una cosa che mi interessa Irrazionale Sei un emotivo di brutto te Si emotivo Hai mai conosciuto Una ragazza razionale? No No eh? No Te lo consiglio Il terzo consiglio Non è impossibile trovarla No no c'è Allora Ti spiego Non voglio tornare Non voglio tornare In questa storia mia Che è proprio freschissima Perché non ne voglio parlare Io penso che Con una ragazza razionale La lascerei dopo tre giorni Lo so anche io lo pensavo Provala Terzo consiglio No Si te lo consiglio Che cazzo te ne frega Uno in più o meno Cosa ti cagli Io ho bisogno di un razionale Che non mi dà punti di riferimento Perché se non mi rompe i guglioni No ma la razionale Non ti dà punti di riferimento La razionale è quella Che vede le cose Per quello che sono No ti capisce E ti capisce Perché sei un emotivo Se sei un emotivo Se sei un emotivo Come te non esci più Ti capisce Ho capito Ma se te sei completamente pazzo E devi condividere delle fallie E questo è talmente razionale A quel punto Non è che entra nella condivisione Delle tue follie Entra nella fase Di croce rossina Che deve Con la sua razionalità Potrebbe accettare Le tue follie Allì fuori della relazione Non ci hai mai pensato Potrebbe farti stare bene Ma io Anche quest'ultima volta In quest'ultima relazione Ho inseguito Ho fatto Ho fatto Ma non è che stavo bene Però Potevo avere Sai Hai 50 anni Sei libero Sei milionario Non hai problemi a scopare Comunque hai avuto Un sacco di relazioni Chi te lo fa fare Quando c'hai Comunque un bel lavoro Che ti piace Una roba Buttarti in una storia Con tutte quante le problematiche Eh lo so Ma è questo il punto Però io Sono uno oggi A 50 anni In cerca di Di amore Cioè Se una ragazza Mi dà amore Io la vedo pura Che mi dà Un grandissimo amore Mi manca La parte di essere amato Senza interesse Cioè nel senso Quando stai con un personaggio famoso Tu hai sempre un interesse Puoi avere un interesse Perché lui è ricco Puoi avere un interesse Perché lui è famoso Puoi avere un interesse Perché ti fa aumentare i follower su Instagram Puoi avere un interesse Che tristezza però Ma è così Cazzo Cioè l'ultima ragazza che ha avuto In due anni e mezzo di storia Avremo postato tre storie Insieme E una che non ne fregiamo un cazzo Cioè questa cosa è una cosa che ti fa piacere Capito cosa ti voglio dire Cioè una piccola prova in più No è una roba che Una persona sta con te per quello che sei E non per quello che gli puoi dare YouTube o la TV La TV YouTube non lo guardo mai Raio o Mediaset? Nessuna delle due Guardo la 7 No guardo la 7 Ma preferisci andare in TV o YouTube? Preferisco andare in TV Ok E invece sulla Raio o sulla Mediaset? Se puoi andarci Dipende dai programmi Io sono per i programmi di 5 programmi sono i miei programmi preferiti Guardo Io guardo Sono un malato cronico Di programmi di Di attalità Il programma più bello che guardavo Era l'annunziata che non c'è più Fazio l'odio Guardo tantissimo report Guardavo report della Gabbalelli Non report L'ultimo report che non mi piace Guardavo purtroppo Furgatori che è morto Guardo il martedì È la giornata più allucinante Perché mi richiudo in ufficio È la giornata dei talk Perché tu hai Lasciamo perdere il programma Della De Girolamo Che è un'amica mia Ma che non è un programma Però tu di solito hai Il martedì avevi Le Belve Poi avevi su Rete 4 La Berlinguer Sulla 7 avevi Floris Sul canale Italia 1 avevi Le Iene Le Belve Quella lì che ti intervista Bionda e carina Sì Le Belve Poi avevi Le Iene Ed erano tutti programmi molto interessanti Da cui tu potevi fornire dei contenuti Te li dovevi guardare tutti Davide Parenti per esempio Che è il capo delle Iene Nessuno lo sa Ha una storia imprenditoriale E soprattutto televisiva Clamorosa Perché è una delle persone Più incredibili a livello intellettuale Di quello che ho fatto in televisione E uno che vive Anche lui a 60 anni E lavora 24 ore su 24 E uno dei miei più cari amici Per esempio Comprare Bitcoin oppure un ristorante? Nessuno dei due Nessuno dei due? Io non investo un euro Allora a proposito di questo Non hai mai investito? Ho letto qualcosa? No purtroppo ho fatto l'errore Nel senso adesso Non io ma la società Per cui lavoro Ha fatto l'errore Quando te sei uno che guadagna tutti i giorni Perché devo poi andare a guadagnare Sui soldi guadagnati? L'altra volta sentivo Non la sai questa L'altra volta Cassano Ha festeggiato I 50 milioni di euro in banca Ha fatto una festa Che aveva 50 milioni di euro in banca E dicevamo Ok Beh io ho 50 milioni di euro in banca L'investo a reddito fisso E mi rendono un milione e mezzo di euro l'anno Io vivo un milione e mezzo di euro l'anno Senza fare un cazzo Giusto? Quindi festeggiavo Io ho sempre investito In quelle C'erano Ti ricordi i BTP Quelle robe lì Che tu non avevi i rischi Guadagnavi poco Il 2 Il 3% Però li guadagnavi Poi c'è stato un periodo Due anni fa Dove non c'erano I BTP Erano saltati Ti ricordi Quelle robe lì Sì non pagavano niente Non pagavano niente Il direttore Mi ha convinto a fare Degli investimenti a tre anni Tipo? Non lo so Ah Però è andata bene Ma no Allora Ora scade ottobre Eh All'inizio avevamo partito Mi ha avuto 3-400 mila euro Eh Il primo anno e mezzo Siamo stati sotto Di un milione e due Ecco Cioè Io guardavo quel cazzo di conto E dicevo Quindi ma Cioè Io la volta Eh E lui mi ha sempre garantito 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 Ma no Alla fine dei tre anni Alla fine dei tre anni Alla fine dei tre anni Poi siamo a gennaio Tre anni Sì c'è stato ottobre Siamo risaliti Siamo a meno 400 Ah Magari c'era ragione lui Però ti giuro Magari c'era ragione lui E alla fine dei tre anni Per recuperare il mio investimento Magari mi avrà fatto guadagnare 200 mila euro l'anno E mi ritrova altri 600 mila euro Ma Eh A oggi Questi tre anni L'ho vissuto in una sofferenza Perché io poi Tutte le mattine Mi faccio mandare il controllo Controlli E mi veniva un'ansia allucinante Perché non sono cose che gestisco io E io non mi fido delle persone Interessante questa cosa E però Un po' di tempo fa Ti sei messo a parlare di Forex Sta roba qua O no? Mi pagavano Ah ti pagavano Ma poi come andate a finire? Cioè non è che lo facevi tu? No Io lo utilizzavo nel mio profilo Io Ok La gente famosa Sa che io sono molto famoso Perché E questa è la palissia No Le cose che mi legano Sono i soldi Le fighe Successo E quella roba lì Quindi quando parli di soldi Se sponsorizzi il Forex È uno che Comunque ha uno status sociale Quel mio Che gira con lo Bentley Che ha un patek Da 250 mila euro Che comunque macina soldi Ti trovano 4 milioni di euro Sul controsoffitto Quello sia un investimento Sanno che fatturi milioni Allora dico Ok Se hai investito Corona Ma poi come è andata a finire? No È andata a finire Che loro hanno convertito tantissimo Le loro cose Poi mi preposero Una parte in In CPA Tutte quelle robe lì Le robe varie Uno di questi Siamo diventati talmente amici Con questo ragazzo Adesso si è trasferito A vivere a Dubai Che è uno Anche abbastanza Molto sveglio A un certo punto Mi voleva fare Un investimento In questo Conto Bel 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 Non so Una roba Che poi E te non l'hai fatto No Senti Le carte erano tutte jolly Sì Quindi L'hai fatto apposta Sì Ok Ma io sono abituato A dire la verità A rispondere Ti hanno mai fregato Nella vita? Sì Una varia di volta Tutti 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 La mia migliore amica Che è il mio abadante Che mi ingestiva tutto quanto Mi ha rubato un milione di euro Dai muri di casa Dai muri proprio Sapeva dove erano murati Ha spaccato i muri Sì a portere Ha uno spirito molto forte E secondo me Eppure buono Io Sono diventato più buono Dici in una cosa La bugia Menti a te stesso Quando Hai questo Ma questo è l'età Con l'età sono cambiato Con l'età sono cambiato Non ero così prima Anche le relazioni Non ero così Il problema è che le persone giudicano Ed è una cosa diversa Ma del giudizio delle persone Io per esempio non leggo i commenti Certo A me non Guarda Mi date un attimo il mio telefono Ti voglio far leggere duro Perché ho scritto Guarda Questa cosa qui È un po' Lo spirito di Atena E dice di essere fuori Da ogni circuito Da ogni gruppo di finti amici Da ogni serata vissuta Come esercizio di poesia Da ogni luogo Preconfezionato Dalle feste comandate Dalla vostra tv Nei vostri social Alla vostra banalità Rispondo con il sorriso Così solo per farvi incazzare Questo è lo spirito Di come sono io Fuori dagli schemi Questa è la storia Che ho postato oggi E purtroppo è stata male interpretata Da ragazzino ebili La poltrona In prima fila Osservai il bel mondo Poi decisi di entrarci A gamba tesa Rimasi zoppo e persi tutto Andai ad aggiustarmi in carcere Usciri dal carcere Rientrai nel bel mondo Lo scossi E finì nuovamente zoppo Riprendendo Riperdendo ancora tutto Ritornai in carcere Studiai Mi portai dietro Il mio amico bambino Fabrizio Ritornai nel bel mondo Plasmando Stavolta mi misero La camicia di forza Perché diedi molto fastidio Ma non smisi di studiare E potei sedermi Sulla cattedra Mi volero tirare giù Di forza Innescando una bomba Sulla poltrona Mi spaccarono in frammenti Li ricomposi studiando Come fare Ne venne fuori Un'opera d'arte La mostrai Qualcuno incominciò Ad osservarla Pagando il biglietto Stupendo La chiudiamo così Ti ringrazio Questo è un piacere Ti ringrazio Ti ringrazio